Mamma mia sentite qua sentite? Vendo divano letto, riletto e anche un po' sottolineato. Perché senti questo? Allora, un bambino cade, si sbuccia un ginocchio e solo lo mangia. Almeno diciamo meglio, senza bocce. Scusa, ma che cosa stai scrivendo tu? No, sto facendo io un annuncio. Scrivi perché come la gente li legge? Che scrivi? Scambio nonna ottantenne con quattro nipotine ventenni. Scusate, sentite questa. Una banda di malviventi ruba una porta di calcio allo stadio. Arrestato il palo. Una travescia di Massimo Dettacolo. Questo è un po', questo è un po', ah, ah, ah. Uomo amputato gamba destra, cerca uomo amputato gamba sinistra. Per fare due passi. Per fare due passi sul cervello. President instructor di